Buongiorno, mi chiamo Alessandro Bobisse e sono docente di chitarra alla scuola media Silvio Pellico di Chioggia che fa parte dell'istituto compressivo Chioggia 1 ed è l'unica di tutto il territorio comunale ad avere al suo interno un vero e proprio indirizzo musicale il cui insegnanti di strumento sono scelti da graduatori ministeriali così come avviene per quelli delle altre discipline scolastiche. Nella nostra scuola i vostri figli avranno la possibilità di studiare gratuitamente per tre anni uno strumento musicale oltre a fare teorie e solfeggio e musica d'insieme avranno inoltre un'ottima preparazione di base nelle altre discipline scolastiche. Potranno scegliere uno dei quattro strumenti da noi proposti e cioè chitarra, clarinetto, violino e pienoforte. In questo periodo stiamo anche facendo degli open day ma comunque chi è interessato a conoscerci meglio può sempre prendere appuntamento con noi prenotandosi al nostro ufficio alunni al numero 041 40 11 93 in modo da vedere da vicino quello che facciamo. Potete trovare informazioni anche nel nostro sito che ho già uno e sui nostri canali facebook e instagram. Vi aspettiamo numerosi!